Allora, eccoci qui e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo quindi delle altre due questioni che ci siamo lasciati in sospeso ieri, e cioè parliamo dell'equazione di bilancio della quantità di modo e della conservazione della quantità di modo. Ricordiamo che ieri appunto abbiamo detto, diciamo, l'equazione di bilancio della massa e la definizione fisica della divergenza di B e ricordiamoci anche come sono state espresse la grandezza g piccola e la grandezza g più. La grandezza g piccola è, diciamo, la grandezza g grande diviso la massa, la g più è la grandezza grande per unità di volume. La g punto più, invece, è la derivata della g più. Quindi, fatte queste semplici, diciamo, recap, ecco qui, anche abbiamo riportato qui la g più per cosa si intendesse. Quindi, in questo caso, la nostra grandezza è grande, visto che la quantità di modo sarà una massa per una certa velocità. La grandezza g, che sarebbe la g piccola, solo la g piccola, è la grandezza grande per unità di massa, quindi è solo la velocità. G più, c'è il calcolo qui, al lato, come l'abbiamo ottenuto, quindi grandezza grande diviso il volume, quindi massa diviso un volume è la densità, quindi rho v. g punto più è, invece, la derivata di questa cosa qui. Considerando sempre ero costante, la derivata di v, in questo caso l'unica accelerazione che agisce su un corpo, di quello che stiamo considerando, è un'accelerazione di tipo gravitazionale, quindi la v punto è g. Questo farà parte, cioè questa g punto più, farà parte, appunto, delle forze volumetriche che agiscono sul nostro, diciamo, sul nostro corpo. Questo perché, ancora una volta, qui dobbiamo applicare il teorema di Reynolds, per cui diciamo che l'integrale estesa ad un volume materiale vm, ecco, magari lo ripetiamo qui come formulazione, perché ce lo siamo segnati ieri, eccolo qui, quindi la derivata sostanziale di una grandezza g nell'unità di tempo è uguale all'integrale sul volume v della derivata parziale, possiamo dire, aureliana, della grandezza g più, più la divergenza di v g più nel volume materiale. Tutto questo, però, per il bilancio deve essere uguale alle forze di superficie che agiscono sul corpo, più le forze volumetriche che agiscono sul corpo. Andiamo adesso a vedere chi sono tutti questi termini. Ovviamente la derivata parziale di g più rispetto a dt sarebbe d su dt, g più e ρ per v, quindi possiamo metterci qui ρ per v, più, poi abbiamo detto, la divergenza di v per g più, quindi v, g più e ancora ρ per v, nel volume materiale. Quindi, come sempre, qui ci mettiamo una parentesi rossa, così guardiamo tutta la quantità. Tutta questa cosa, quindi, deve essere uguale all'integrale estesa a una superficie S del nostro corpo delle forze superficiali. In questo caso le forze superficiali, quindi Fs, esistono e sono date appunto dal tensore sigma degli sforzi scalare n. Quindi qui dentro scriveremo sigma, quindi tensore degli sforzi scalare n in ds, più tutte le forze che agiscono sempre sul volume materiale e sono date appunto da le forze Fv, quindi volumetriche, sono date da g punto più. g punto più è appunto ρ per g nel dvm, quindi nel volume materiale. Ora, andiamo a vedere un momentino, questa quantità qua, già noi tutto questo integrale qui lo possiamo intendere come, diciamo, vettore b, ok? Nel senso che b è uguale a ρ per g. Quando andremo a portare tutto sotto un solo segno di integrale, questo sarà il nostro, diciamo, potenziale. Quindi rappresenterà sostanzialmente il campo gravitazionale. Vedremo che, appunto, quando siamo sulla Terra, questo b può essere effettivamente posto uguale a zero, perché grazie al numero di Struwell possiamo dire che gli effetti gravitazionali sono molto molto piccoli e quindi trascurabili. Ovviamente come si ottiene il numero di Struwell si ottiene facendo una dimensionalizzazione dell'equazione di bilancio della quantità di moto che non vedremo oggi. Apprenderemo per buono appunto che questo numero di Struwell, si scrive st, sia molto molto piccolo. Se questo è molto molto piccolo, lo vuol dire che gli effetti gravitazionali sono trascurabili. Quindi proseguiamo. Quindi andiamo adesso, dobbiamo portare tutto sotto un solo segno di integrale volumetrico. Qui abbiamo un integrale volumetrico, questo è un altro integrale volumetrico, cioè questo qui e questo qui è un integrale volumetrico. Ce ne abbiamo solo uno che invece è un integrale di superficie, che è questo qui. Qui dobbiamo utilizzare un, diciamo, un teorema, che è il teorema di Gauss, che ci permette appunto di passare da integrali di superficie ad integrali volumetrici. Quindi, se abbiamo un integrale di superficie come questo, quindi sigma scalare n in ds, si può scrivere per il teorema di Gauss come l'integrale sul volume materiale della divergenza del tensore sigma su dv con n. Questo è nient'altro che il teorema, questo è il teorema di Gauss. Quindi, come passare da un integrale di superficie ad un integrale volumetrico. Detto questo, ora dobbiamo andare, quindi, questa è la nostra relazione numero 1, andiamo a sostituire questa relazione numero 2 nella 1, in particolare nell'integrale di superficie che abbiamo. Quindi, abbiamo da questa parte l'integrale volumetrico che sta sopra qui, e lo riportiamo con i punti, in intanto è la stessa quantità, quindi ci possiamo mettere una freccia e dire che questa è la quantità che deve riminare qui. Quindi, da questa parte invece avremo l'integrale volumetrico della divergenza di sigma in dvm più. Possiamo già mettere sotto un solo segno di integrale, ρg, e quindi, parentesi quadra, tutto valutato in dv con m. Ora, non ci resta nient'altro che portare questo integrale a sinistra dell'uguale, per andare ad ottenere, quindi, se questa è la relazione 3, dobbiamo ottenere la relazione 4, che ci dice che l'unico integrale volumetrico, quindi, parentesi quadra rossa, è dato quindi da, sotto un solo segno di integrale, questo è appunto dv con m, e tutto questo deve essere uguale a 0. Questo non significa, attenzione, che così è un'equazione di conservazione della quantità di moto. L'equazione di conservazione della quantità di moto la otterremo nel momento in cui andiamo a porre appunto che b, questo nostro b, diventa 0, cioè il b, che sarebbe il nostro potenziale relativo al campo gravitazionale, diventa 0. Perché? Si porta a sinistra questa quantità dell'integrale relativo alla divergenza di σ e si rimane a destra dell'uguale l'integrale volumetrico di rho g. Ovviamente, però, così, come ci si fa a rendere conto che è un'equazione di bilancio, se non portiamo tutto da un solo lato e vediamo quanto è uguale a 0, perché, come ci siamo detti l'altra volta, questa cosa qui sarà uguale a 0 se e solo se la funzione integrande per un qualsiasi, diciamo, volume scelto materiale è uguale a 0. Quindi questa cosa qui si riflette con dire che dt su dt di rho v più la divergenza di rho v v meno la divergenza di σ meno rho g deve essere tutto uguale a 0. Quindi questa, ovviamente, da qui scaturisce voi la nostra equazione di bilancio perché, appunto, abbiamo detto che se l'integrale è nullo è perché la funzione integrande ad essere nulla per qualsiasi volume materiale scelto. Adesso possiamo andare a fare delle considerazioni. Andiamo a spulciarci innanzitutto questa derivata qui e viene una volta d su dt, rho d su dt di v più v del rho su dt poi andiamo a fare questa divergenza quindi avremo una volta la divergenza di rho v moltiplicato v scalarmente a destra poi avremo più rho v scalare gradiente di v poi avremo possiamo portarci adesso tutto a destra dell'uguale quindi divergenza di σ più rho per g tanto abbiamo capito che, ovviamente, questa quantità deve essere uguale a questa quantità in modo tale che esce 0 quindi esce questa relazione che magari indichiamo col numero, abbiamo detto 3 prima quindi questa è la relazione 4 otteniamo così la relazione 5 ora possiamo vedere una cosa che se prendiamo queste quantità qui e ci mettiamo in evidenza la v cioè la velocità v scalare qui otteniamo all'interno di questa parentesi quadra del rho su dt più la divergenza di rho v chiusa parentesi quadra ma questa qui nient'altro è che la equazione di bilancio di conservazione della massa l'abbiamo vista ieri ed eccola qui l'abbiamo vista, questa è ancora la divergenza eccola qua, vedete? quindi questa quantità qui che era 0 e quindi se è 0 questa integrale significa che deve essere 0 qui la funzione è integrande quindi tutta quella quantità è 0 quindi io qui posso appunto mettere tutto questo uguale a 0 quindi tutta questa quantità qui non esiste e ovviamente per la legge di conservazione della massa rimane solo rho dv su dt più rho v gradiente di v che è uguale alla divergenza del tensore degli sforzi sigma più rho per g che appunto questo rho per g abbiamo capito che possiamo metterlo come vettore b potenziale b e quindi lo andiamo a scrivere quindi più b vettore e quindi adesso da qui possiamo fare la considerazione se appunto portiamo divergenza di sigma a sinistra dell'uguale quindi rho dv su dt facciamo questa rho un pochino meglio ovviamente queste delta delle derivate parziale non mi riusciranno mai bene quindi rho per v per gradiente di v meno meno la divergenza di sigma e rimane da qui solo b ora da questa relazione che è la 6 possiamo andare allora la diciamo questa relazione qui diciamo 6.1 e 6.2 la 6.1 è la diciamo equazione di bilancio della quantità di moto equazione bilancio quantità di moto o del momentum come dicono in inglese questa invece se poniamo b uguale a 0 è l'equazione di conservazione della quantità di moto ok quindi la 6.1 è l'equazione di bilancio della quantità di moto supposto che b non è uguale a 0 quindi supposto diciamo che gli effetti gravitazionali siano preponderanti oppure non trascurabili nel caso in cui gli effetti sono invece gravitazionali sono trascurabili quindi nel caso in cui Struel è molto molto piccolo allora questa diventa un'equazione di conservazione della quantità di moto perché quello che c'è a sinistra è uguale a qualcosa che è 0 a destra quindi quando è 0 a destra ce lo siamo detti nel video passato diventa un'equazione di conservazione e così possiamo capire quando esce un'equazione di conservazione rispetto a ragionare solo con la forma integrale che avevamo alla relazione 1 quindi così lo riusciamo a capire meglio quindi abbiamo un'equazione di bilancio un'equazione di conservazione della quantità di moto ora andiamo quindi a considerare l'equazione di bilancio della quantità di moto così possiamo dire tutto e poi ovviamente particolarizziamo nel caso in cui gli effetti gravitazionali sono trascurabili quindi innanzitutto andiamo a dire chi è il tensore degli sforzi sigma il tensore degli sforzi sigma è dato da meno la pressione P per il tensore unitario U più il tensore tau D che sarebbe il tensore degli sforzi dissipativi questa è la parte diciamo che poi noi indicheremo come diffusione reversibile e questa invece è la parte che compete alla diffusione irreversibile come si può scrivere il tensore degli sforzi tau D? lo possiamo scrivere come due volte mu dove vi ricordo che mu è la viscosità dinamica e la mu si esprime come rho quindi densità per ni che sarebbe la viscosità cinematica questa ni in questo caso è intesa come viscosità cinematica quindi due volte mu per il gradiente di V traccia nulla parte simmetrica ora questo gradiente di V traccia nulla parte simmetrica tiene all'interno di sé un mezzo per il gradiente da V quindi tutta questa quantità possiamo scriverla come due volte per un mezzo mu gradiente di V questo ovviamente viene sempre dalla conoscenza del calco tensoriale che abbiamo detto dobbiamo dare per supposto in questi video un mezzo e un mezzo quindi due e due si semplificano scusate quindi rimane mu gradiente di V quindi questo è il nostro tensore tau D tensore sigma meno P per U nel caso in cui gli sforzi diciamo dissipativi quindi la parte viscosa magari stiamo considerando un fluido che è inviscido e la parte insieme viscosa non c'è rimane solo sigma meno P per U e questo si dice quando sigma è uguale solo meno P per U vuol dire che il tensore è isotropo quindi flusso o fluido ha proprietà isotrope quindi è uguale solo a meno P quindi meno la pressione per il tensore unitario U dette queste cose possiamo andare a particolarizzare sempre nel caso generale quindi andando a metterci anche tau D quindi è come se stessimo considerando anche gli effetti viscosi quindi lì avremo rho dV su dt guardando sempre la relazione 6.1 meno P tensore unitario più tau D più B vettore continuando ancora dobbiamo andare ad esprimere quindi la divergenza di questa quantità qui cioè questa quantità qui come si può scrivere quindi la divergenza di quella quantità lì si scrive come meno gradiente di P perché appunto il tensore unitario quindi è come se facessi meno P per uno per una matrice che è di tutti uno e quindi avrei semplicemente solo P e quindi avrò il gradiente di P visto che P è una quantità scalare in questo caso quindi la divergenza di uno scalare è un gradiente quindi meno gradiente di P poi avremo più la divergenza del tensore tau D e poi ci sarà più B quindi la nostra equazione di bilancio della quantità di modo si particolarizza ancora e diventa rho dV su dt più rho V gradiente di V è uguale a meno gradiente di P più la divergenza del tensore degli sforzi D tau D più il vettore insomma che ci indica il campo gravitazione ora da questa parte qui la nostra diciamo il nostro scopo principale quindi 6.1 questo mettiamo la 6.3 quindi questa è tutta riguarda la 6.3 quindi è tutto il filone della relazione 6 il nostro scopo è sempre di legare la formulazione la grangiana a quella aureliana quindi se ci portiamo rho in evidenza da qui ci rimane dV su dt più rho V gradiente di V anzi questa rho abbiamo detto la portiamo in evidenza quindi da qui la dobbiamo togliere e quindi ci rimane questa quantità qui da questa parte avremo meno 1 sul rho gradiente di P più 1 sul rho divergenza di tau D e poi qui si avrà più B che moltiplica 1 sul rho ok? quindi questa quantità qui è proprio la definizione di derivata sostanziale di una quantità vettoriale quindi DG vettore su dt sarà appunto uguale a D quindi derivata parziale rispetto a dt quindi eureliana più V gradiente della quantità G vettoriale ecco qui questo è il nostro G sarà la V vettore di velocità quindi avremo la parte diciamo eureliana appunto di tutta questa tutta la quantità eureliana per quanto riguarda la velocità quindi capiamo che l'equazione di bilancio della quantità di moto sostanzialmente comprende anche un termine che è quello dell'accelerazione questa quantità qui possiamo scriverla come dv su dt che è uguale a tutta questa quantità che adesso portiamo in rosso quindi la mettiamo qui che è ancora uguale quindi questa è la formulazione lagrangiana questa è la formulazione releana sono uguali e sono uguali a che cosa a questa quantità qui quindi a meno 1 sul rho gradiente di P più 1 sul rho divergenza di tau d più 1 sul rho che moltiplica il vettore campo gravitazionale B quindi questa è l'equazione di bilancio della quantità di moto particolarizzata nel senso che abbiamo riscritto quindi l'accelerazione che sostanzialmente questa è l'accelerazione come dipendente dal gradiente di pressione dal gradiente degli dalla divergenza degli sforzi viscosi quindi del tensore degli sforzi viscosi e dal campo gravitazionale se il campo gravitazionale qui facendo l'ipotesi stroll molto molto piccolo l'assenza di sforzi viscosi quindi fluido inviscido queste due quantità qui si elidono e rimane semplicemente che l'accelerazione relativa alla particella che si muove nel fluido dipende sostanzialmente dal gradiente di pressione e ovviamente lo sappiamo questo perché diciamo anche a livello di intuito laddove la presa i gradienti di pressione in questo caso può essere dp su dx tanto per dire se la proiettiamo lungo poi ovviamente escono fuori così le equazioni della quantità di moto lungo x e lungo y se la proiettiamo insieme a queste equazioni della quantità di moto qui lungo x qui uscirà meno 1 su ρ dp su dx e qui sarà uguale a dv su dt quindi quando è che la velocità subirà una variazione positiva la subirà quando dp su dx è minore di 0 quindi vuol dire che si ha accelerazione quando la pressione è in diminuzione viceversa la dv su dt sarà negativa quindi c'erà una decelerazione quando il dp su dx è invece maggiore di 0 così abbiamo già detto due cose quando dp su dx è minore di 0 questo si chiama gradiente di pressione favorevole quando dp su dx invece è maggiore di 0 si ha un gradiente di pressione sfavorevole quindi in questo caso abbiamo un'accelerazione quindi un aumento di velocità e nell'unità di tempo e qui invece abbiamo una decelerazione quindi una diminuzione di velocità nell'unità di tempo quindi è già questo è un altro diciamo significato fisico della equazione di quantità di moto di bilancio della quantità di moto questo ovviamente se andiamo a trascurare gli sforzi viscosi e diciamo che il numero di stroke è uguale a 1 se non possiamo fare queste diciamo supposizioni allora vediamo che l'accelerazione dipende oltre che dalla versione dal campo gravitazionale in questo caso quindi dalle forze volumetriche in generale e da un tensore degli sforzi ovviamente la sua divergenza e l'altra cosa a cui ci servirà poi diciamo l'equazione della quantità di moto vediamo innanzitutto l'outline qual era ecco la conservazione di quantità di moto l'abbiamo detto ok l'altra cosa a cui ci servirà l'equazione della quantità di moto è relativa invece alla circolazione per circolazione noi intendiamo gamma che è l'integrale su una linea chiusa l del vettore v scalare d con l cioè immaginate quindi un vortice questo vortice deve avere una certa circolazione quindi la circolazione è una cosa del genere quindi questo è il vortice questi sono i vortici questo è il cuore del vortice una circolazione è questa cosa così come come si gira all'interno se questa è la linea chiusa l come si gira su questa linea chiusa l sostanzialmente ok e questa circolazione può essere fatta ovviamente quella v che è la v tangente a questa linea chiusa che appunto percorre un tratto elementare in quel caso d con l e può essere percorso questa linea chiusa nel senso orario nel senso antiorario quindi poi ovviamente senso orario di solito si mette positivo senso antiorario negativo oppure senso antiorario positivo e senso orario positivo questo poi dipende da come diciamo anche da una da una convenzione che si utilizza di solito in analisi 2 su come si percorre la curva lasciandosi il centro a destra a sinistra e così via quindi ovviamente uno può dare una convenzione del tutto suo però basta che sia coerente perché di quello che ci servirà nella circolazione gamma che innanzitutto con la circolazione gamma con la circolazione gamma possiamo andare a introdurre quello che è la vorticità cioè noi avremo a che fare con dei vortici e la vorticità è appunto è un vettore che ci indica appunto se si dirà che appunto il campo di moto è irrotazionale se questo vettore zita che rappresenta la vorticità è uguale a 0 quindi irrotazionale se invece il campo è rotazionale quindi zita è diverso dall'essere 0 diciamo questo zita come lo possiamo vedere se ci mettiamo sempre nel vortice è un campo di moto irrotazionale mettiamoci ad esempio in questa linea chiusa vedremo che se noi mettiamo una freccettina qui un aggeggio che abbiamo costruito noi un aggeggetto così e qui c'è questa circolazione se questo aggeggino in un certo tempo del T si è portato così praticamente la freccia non ha mai ruotato quindi sta sempre puntando verso l'interno del vortice allora vuol dire che il fluido fuori è in rotazionale cioè questa freccettina non sta ruotando se invece ci andiamo a mettere nel vortice con questa freccettina magari che punta così all'istante di tempo di T dopo la vedremo che punta così poi ripunta così poi ripunta così poi ripunta così e così via quindi vuol dire che la freccia che è questo aggeggino che ci siamo costruiti noi per vedere se zita è diverso o meno da 0 sta ruotendo nell'unità di tempo e quindi vuol dire che lì c'è vorticità ma se c'è vorticità vuol dire che la variazione di circolazione lungo questa linea così piccolina chiusa che chiude il cuore del vortice non è costante e quindi dγ su dt sarà uguale a 0 è diverso da 0 quando invece il fluido è rotazionale dγ su dt invece sarà 0 quindi vuol dire che la circolazione si conserva e questo è il teorema di Kelvin e dobbiamo appunto vederlo a partire dalla equazione di bilancio della quantità di moto perché dovremo fare poi una supposizione per cui diremo che il nostro campo sarà di tipo barotropico è barotropico il campo quando poi lo vedremo nel prossimo video quando su superfici di uguale densità si ha una pressione costante altrimenti cioè se queste sono le nostre linee di corrente e questa rappresenta diciamo il gradiente di densità dove con la freccia mettiamo la densità maggiore e la coda rappresenta la densità minore quindi ρ minimo e ρ max tanto per dire e prendiamo sempre sulla stessa linea di corrente magari uno un pochino più sotto prendiamo anche il gradiente di pressione vedremo che il gradiente di pressione e il gradiente quindi questo è il gradiente di densità e questo è il gradiente di pressione sono due vettori effettivamente paralleli e in questo caso il campo si dirà barotropico quindi quando è in questa situazione possiamo appunto sotto questa ipotesi possiamo dire che appunto d gamma su dt poi sarà appunto 0 e quindi sarà verificato il teorema di Kelvin cioè la circolazione come parte così arriva sostanzialmente poi bisognerà fare la distinzione tra campo di modo barotropico e baroclinico baroclinico diciamo se questa è l'andamento del rho e la rossa è l'andamento diciamo delle pressioni vedremo che è baroclinico quando appunto il vettore diciamo che rappresenta il gradiente di rho e il vettore che rappresenta il gradiente di p non sono paralleli perché qui magari avremo il gradiente di p e qui magari avremo il gradiente di rho e quindi non sono paralleli della delora e quindi il campo si dirà baroclinico e in questo caso il d gamma su dt non sarà uguale a zero quindi possiamo già dire una cosa che esternalmente ad un vortice se il campo di modo è redazionale vuol dire che il campo di modo è baroclinico all'interno nel cuore del vortice non potendo essere la vorticità uguale a zero il campo di modo sarà sicuramente baroclinico dentro quindi fuori barotropico dentro baroclinico ed è una diciamo sostanziale differenza che dobbiamo fare poi nei prossimi video quindi detto questo e con un ampio escursus su quello che ci aspetterà il video può finire così e se ci sono domande anzi più che altro io farò una stampa bdf di questo che abbiamo fatto noi adesso così posso lasciarla nell'info box del video e potreste consultarla ogni volta che vi serve ovviamente la scrittura è quello che è cercherò di sistemare perlomeno scrivendo quali punti sono che abbiamo fatto e così vi sarà più semplice nella lettura quindi detto questo il video finisce qui e ci vediamo ad un prossimo video tempo